il fatto che poche persone ad oggi nella vita in cui siamo abbiano tanta ricchezza e la maggior parte persone poca è principalmente dato proprio da questi fattori perché in realtà roba come questa va approfondita ore ore chi pretende di capirla in un minuto due minuti cinque minuti ovviamente prenderà solo legnate ovviamente non c'è non c'è risultato come detto l'unica cosa che spero è che susciti curiosità ma poi devi andare sulla documentazione ci ripassare qualche giorno perché questo è il complicato non è che prendi a vabbè si tiziano non ha convinto quindi compro ai can benvenuti ragazzi bentornati al vostro format preferito di youtube quello delle interviste da 21 minuti è questo oggi ragazzi noi portiamo un amico del del pub anche lui venuto al cripto vabbè se avete perso la puntata ma andate a cercare perché un puntatone con tiziano tridico anche lì abbiamo parlato di restacking proprio come oggi perché è un tema che prende sempre di più e tiziano direi che la sua passione la sua capacità tecnica le sue conoscenze ci sono di enorme aiuto anche per chi lo conosce magari vuole approfondire vuole un po ascoltare il punto di vista di tiziano ma soprattutto per chi si sta approcciando a questo mondo per chi ha sentito parlato il parlare restating e vuole un po' riscidere che cos'è sta roba è molto spesso sempre un po' una supercazzola e quindi ha voglia di approfondirlo mi raccomando ragazzi al solito inutile ci perdiamo nei soliti disclaimer questi non sono assolutamente nessun tipo di consiglio finanziario anzi è volesse uno spunto per incuriosirvi e per come dice tiziano andare a studiare se questa cosa può essere può far parte no del vostro panorama se può essere interessante per voi se volete approfondirla ma io non mi dilungo più di tanto vi lascio con questa intervista con le parole di tiziano e a tra poco ciao iniziamo buonasera a tutti quanti e diamo un benvenuto a tiziano trivico che è un piacere avere con noi al cripto pub buonasera tiziano piacere mio ciao allora tiziano io immagino che chiunque in italia nella community italiana si sia avvicinato al mondo cripto in qualche modo è incappato in qualcuno dei tuoi fantastici video sul sul senso di esistere di bitcoin su quello che è tutti i film la tua passione innata nei confronti di questo mondo quindi dici un pochino di più magari per chi non ti conosce non ti conoscesse perché è arrivato adesso in questo mondo chi è tiziano trivico e cosa ti ha portato alle cripto visto che abbiamo poco vado proprio diretto chi sono sono un ingegnere informatico quindi il mio approccio è quello tecnico ho lavorato per diverso tempo da sviluppatore lato web faccio proprio front end quindi mi sono sempre occupato della parte web sin dall'inizio degli anni in cui ho lavorato e per la maggior parte della mia vita all'estero non ho lavorato tanto in italia quindi so come funziona la mentalità italiana ma poi a livello lavorativo sono sempre stata all'estero perché mi sono approcciato principalmente perché quando ho scoperto questo settore che è stato attorno al 2016 quindi abbastanza tardi qualcuno che vedrà il video oggi dirà come tardi io lo percepisco abbastanza tardi praticamente cercavo un qualcosa per cambiare un pochino la mia vita cioè non era una cosa filosofica chissà che alto livello era egoistica come penso che accada per molti cioè semplicemente trovare un metodo alternativo di investimento crescita personale perché noi siccome riguardava il campo informatico mi sentivo un pochino più forte rispetto all'ambito finanziario economico dove magari conoscevo un po' meno no allora mi sono approcciato a 360 gradi ho scoperto prima bitcoin ovviamente poi perché l'ho visto no come si come metodo di pagamento in un sito dovevo comprare una sorta di crack per un programma e appariva praticamente il pagamento in bitcoin lo dico così com'era poi non l'ho fatto quindi pubblicamente non l'ho utilizzato perché non ero in grado perché non non sapevo come utilizzare bitcoin e da lì mi sono incuriosito però da lì sono entrato nella tona del bianconiglio ho scoperto coin market cap e lì cominci veramente ad impazzire il basso di pandora assolutamente e non era quello che era oggi perché comunque parliamo di almeno un ordine di grandezza inferiore a livello numerico erano molte meno ma in ogni caso ce n'erano tante allora volevo anche capire perché ce ne fossero di più e c'è quella sensazione che secondo me hanno tutti all'inizio di essere arrivati tardi e quindi di dire ma però non inizio a bitcoin per me è tardi inizio dall'ultima cosa quella più recente perché così sono più al passo no con i tempi riesco ad essere sul pezzo però mi sono interessato di altre cose tra cui anche dash ma anche xrp comprai cioè per dire no non capivo molto come avviene spesso all'inizio ho fatto cloud mining ho fatto tutte le ico possibili immaginabili del 2017 ho fatto tante di quelle anche porcate no nel sai investimenti che ritenevi essere investimenti ma non cose strane metti dei token di là guadagni però comunque mi sono appassionato e di base ho cominciato a capire che c'era del valore vero a livello tecnologico quando è quando è che hai capito che questa roba qui la defile e cripto potrebbero avere effettivamente un futuro beh principalmente passa almeno quella fase di ubriacamento che era 2017 si supera quella fase lì arriva il primo bear market che però è stato veloce perché io ho fatto un anno pieno da matti poi c'è stato un anno il mio canale già aveva preso un po' di trazione perché in italiano c'erano pochissime persone che parlano di queste cose quindi anche se ne parlavo in modo effettivamente a basso livello perché oggi riguardando quei video veramente c'è da vergognarsi ma per per la qualità era bassissima però essendoci così poco online effettivamente ho comunque preso un seguito è stato solo una questione tempistica anche perché il mercato mi ha dato ragione poi nel 2018 2019 che cosa succede cominciano arrivare degli esperimenti un po più interessanti quindi mi parlavo di defi io ho capito che la defi avrebbe avuto un futuro nel momento in cui ho visto maker dao e dai per dirti perché perché ai tempi c'erano diverse carte per il pagamento perché il mio approccio alle cripto è stato ok bitcoin è una moneta quindi è una moneta alternativa però io voglio utilizzarla voglio cercare il modo di utilizzarla non era facile il primo ponte è stato utilizzare tutte le varie diverse carte che arrivavano da dalla wirex di turno ai tempi c'era 10x nasceva quella che adesso è crypto.com con monaco card ne ho detta qualcuna ma ce ne sono diverse no però quasi tutte poi hanno avuto un percorso altalenante ai tempi la cosa che mi interessava tanto era il fatto di avere una stable coin che comunque era collateralizzata ai tempi solamente su un asset volatile cioè ether che potevo utilizzare su una carta convertire e pagare con quella carta quella cosa mi ha fatto pensare cavolo io posso diventare la banca di me stesso in certi per certi sensi non dal punto di vista di riserva di valore attenzione perché per me quella è bitcoin però dal punto di vista che posso farmi prestiti da solo questa roba è potente cioè quella veramente mi ha fatto capire mi ha fatto scattare la scintilla che prima di quest'evento non ero tanto affascinato da ethereum paradossalmente perché io vedevo solamente l'utilità della moneta nel contesto quindi vedevo bitcoin superiore da questo punto di vista però mi si è sbloccato il ragionamento di una piattaforma per sviluppare cose un po più complesse tramite ethereum e cominciare a distinguere i due discorsi e a vedere un futuro sulla defa questo è stato un po l'approccio ok tra l'altro parlando di esperimenti particolari a livello tecnologico secondo me anche idee un po molto innovative parlando proprio di ethereum diciamo nel 2024 quello che è stato il trend che è un po ha attirato diversi occhi eh sopra eh sopra i diri ma è stato quello del restaking con che ha raggiunto tvl paurosi nell'arco di un anno praticamente sta inseguendo eh line of finance eh symbiotic che eh qualche settimana fa non sono uscito fuori eh eh già raccolto immediatamente al primo deposito 250 milioni di di dollari ma se tu dovessi spiegare no questo esperimento del del restaking a un newbie no a qualcuno che è appena arrivato in questo mondo eh anche per capire no potenzialità e potenziali rischi perché comunque dobbiamo sempre ricordarli come come lo spiegheresti beh principalmente dobbiamo prima avere in mente come funziona lo staking e in così poco tempo non avrei tempo di spiegare bene come funziona un sistema di consenso così complesso no però consiglierei prima di approcciare da lì e per fare un super riassunto in pratica se paragonato a come funziona bitcoin che funziona con la prova del lavoro no quindi dobbiamo mettere una potenza di calcolo per avere una convalida di transazioni dall'altro lato sullo staking dobbiamo avere una una sorta di prova economica dobbiamo dimostrare che stiamo mettendo in gioco un qualcosa una nostra somma economica che potremmo perdere per diciamo convalidare delle transazioni se però facciamo un lavoro sporco cioè convalidiamo transazioni che non andrebbero convalidate possiamo perdere quella parte economica quindi è un concetto di entrare in un in quello che si chiama teoria dei giochi in questo settore ma con skin in the game economica non più con un lavoro attivo fatto da macchine ma con i nostri soldi ok da qui si apre tutta una diatriba perché potrebbe essere peggiore potrebbe essere migliore di quella che è la proprio work ci sono aspetti ambientali ci sono aspetti di sicurezza c'è una cosa che dovremmo star qui per ore a parlarne a me piacerebbe anche però non abbiamo tempo oggi no magari un'altra volta riusciamo anche a approfondire però qual è il punto che questa idea di mettere in sicurezza in questo caso una rete di base come quella di ethereum ma anche di altre rete ovviamente adesso parliamo di ethereum per riferimento ad eigenlayer o a restaking che nasce lì con un valore economico può essere messo in leva in che modo nel dire questa è una rete di base che convalida transazioni ma sopra questa rete su cui si può sviluppare qualsiasi cosa ci sono dei servizi ok qualsiasi tipo di servizio cioè non c'è un servizio specifico ci possono essere tutti i servizi che vi immaginate nel web potrebbe essere un gioco come potrebbe essere una cosa seria come ad esempio una convalida di dati quindi una prova di dati da qualche parte questi servizi per essere eseguiti nel web 2 nel web che conosciamo devono essere eseguiti su dei server delle macchine questi server qualcuno li paga ok quindi la sicurezza da che cosa è dato da una rete che comunque dietro a magari un'azienda che mantiene questa struttura l'idea di eigenlayer e del restaking in generale invece dire perché non decentralizziamo non distribuiamo anche questa parte di servizi come farlo però dobbiamo comunque dare sia un incentivo come è stato fatto praticamente da bitcoin sin dagli inizi per poi passare tutti i sistemi su blockchain e in più dobbiamo anche dare modo di partecipare in modo da avere una rete che si vada a distribuire davvero che non concentri questi servizi solo in dei punti specifici allora nasce l'idea di dire perché non utilizziamo lo stesso asset invece di creare sempre altri asset lo stesso asset che mette in sicurezza la rete di base che viene messa in staking abbiamo due modi o creando dei nodi quindi i famosi 32 ethereum che vengono messi per convalidare le transazioni oppure possono essere messi in staking su dei servizi che se abbiamo meno ether meno di 32 possiamo metterne uno possiamo metterne in parte e creiamo i famosi lst liquid staking token quindi esempio lido che hai nominato no o altri quel token è un gettone che ci rappresenta il nostro quantitativo messo per mettere in sicurezza appunto la rete di base adesso abbiamo un gettone questo ha un controvalore perché siccome ci permette di riprendere ether alla fine vale uno a uno semplifichiamo il concetto a livello economico come ethereum allora perché non utilizziamo anche questo per mettere in sicurezza un servizio che è sullo strato superiore quindi un servizio che viene eseguito sullo strato superiore della rete di base qui ad esempio un bridge una non so un sequencer queste cose qui che hanno comunque delle problematiche perché che cos'è un bridge è un sistema per far passare degli asset da una blockchain all'altra qualsiasi esse siano il problema è che magari il controvalore è altissimo ma l'attacco per poter ottenere questo passaggio di dati o di valore alle volte è molto basso quindi la messa in sicurezza del bridge alle volte crea un effetto dove diciamo l'opportunità di attaccarlo è molto più conveniente soprattutto paragonato a quanto si può ottenere perché non c'è un sistema di consenso basato su uno staking valido come quello di ethereum con tanti tanto tanto valore quindi se noi riusciamo a mettere in leva tutto quello che è stato messo come tvl in staking su ethereum per consolidare questi servizi che sono critici nel mondo dello sviluppo dell'ecosistema a quel punto riusciamo ad utilizzare due volte lo stesso servizio e facciamo funzionare meglio tutto l'ecosistema in tutte le sue componentistiche quindi prendiamo questi lst li mettiamo di nuovo in staking mettiamo in sicurezza diversi servizi e questi servizi lavorando hanno delle fee che vanno a ripagare tutte le parti che ne fanno tutti coloro che ne fanno parte gli operatori chi crea il servizio chi mette in staking e quindi l'effetto di conseguenza è che una persona che fa staking può mettere in staking praticamente lo stesso asset due volte guadagnarci due volte è facile capire perché ha successo perché è molto attraente poter guadagnare due volte sulla stessa cosa ma scusami si può costruire anche qualche cosa un po più tipica del web 2 per esempio mi viene da chiedere qualche tempo fa vanek aveva fatto uscire fuori questo report dove diceva che i dirum sarebbe no un po un competitor delle grosse big tech che ad oggi si muovono sul web 2 quindi magari è possibile anche utilizzare questo layer di sicurezza per andare a costruire delle applicazioni che poi sono quelle che si utilizzano un po tutti i giorni oppure rimarrebbe più nel nell'ambito della defi ma diciamo che non c'è limite cioè considera che i servizi che possono essere eseguiti possono essere più disparati purché abbia senso farlo in quel modo cioè rimangono dei casi per cui è sempre più efficiente è sempre meglio eseguire un servizio su un server per diversi motivi quando però il servizio di cui parliamo ha senso che sia decentralizzato o quantomeno abbia un certo livello di decentralizzazione qui attenzione non voglio dire che deve arrivare al livello bitcoin deve arrivare al livello per cui non sia attaccabile in modo semplice per cui la superficie attacco sia quantomeno più costosa di quello che si ottiene questo è cioè questa è la teoria dei giochi quindi quando ha senso questo e qui non mi viene in mente un caso specifico ma ripeto quello del bridge secondo me è ottimo anche se non è web 2 però pensiamo anche a servizi di di automazione di reperibilità di dati oppure di un liquidatore no per esempio ad oggi quando utilizziamo un exchange o quando utilizziamo soprattutto un operatore un broker che deve chiudere delle posizioni finanziarie quindi ad esempio la scadenza di un future oppure la scadenza di un di un'opzione come pensiamo che si chiudano quelle operazioni c'è un server che va a controllare la scadenza e chiude quelle operazioni se ci pensiamo quel server attaccabile quindi non ci stiamo fedando del broker che faccia bene il suo lavoro oppure un oracolo di dati quindi quando prendiamo il prezzo di un qualcosa quel prezzo da dove viene viene da un server ecco se noi decentralizziamo questo che comunque parte del web 2 perché tutto funziona così anche la banca funziona così quando ti dà il prezzo di cambio di due monete esatto quella parte lì è interessante perché invece di fidarti di un unico punto a quel punto il servizio è decentralizzato quanto meno più di prima ci guadagnano tutti ed è meno attaccabile questo è un caso d'uso molto interessante e si può fare poi dipende tutto dall'hardware che si sviluppa se ha senso farlo e a quel punto l'hardware poi viene eseguito da quegli operatori che fanno parte del sistema che guadagnano le loro file e distribuiscono in parte a tutti coloro che hanno delegato e quindi hanno votato per far sì che quel sistema sia più sicuro di altri ok ma se se tu dovessi fare un rapporto rischio beneficio no per per i tirum cioè il rsk il restaking secondo te apporta più benefici all'intero ecosistema oppure più rischi secondo me più benefici perché non è un qualcosa che impatta il livello sottostante cioè anche se dovesse andar male un servizio e quindi dovesse esserci uno slashing su quel tipo di servizio non impatterebbe il consenso di base del protocollo è una cosa che va per strati è più pericoloso diciamo quello che fa lido il liquid staking token dove comunque stanno accentrando tanta della responsabilità dello staking della struttura di base piuttosto che un sistema alternativo uno strato superiore come quello di agilayer dove in realtà poi utilizza e basta quei token lì quei token ormai sono già un problema in realtà se venissero diminuiti ci sarebbe uno slashing per il singolo utente ma non un problema per l'infrastruttura di base quindi secondo me è più un pro che un contro perché sviluppa molto di più l'ecosistema e la sicurezza di diverse cose e dà anche un senso fa capire qual è il potenziale di ethereum e quanto si sta stratificando appunto ok fantastico anche perché comunque su ethereum ancora sempre secondo questo report di vanek ma non è l'unico c'è veramente tanto potenziale in futuro soprattutto e non solo a livello finanziario ma è un post titolo vedere tutti i vari ambiti dove i tam no in total addressable market di ethereum che vanno a toccare dalla finanza al marketing addirittura anche l'intelligenza artificiale quindi molto interessante questo questo aspetto qui invece per quanto riguarda agilayer visto che siamo comunque all'ultimi no gli ultimi sprazzi di questa fantastica interessa che abbiamo fatti di questa chiacchierata che siamo fatti insieme questo token agen no poi che ruolo potrebbe avere all'interno di questo del restaking di agen layer e qui dovrei parlarne un po di più però visto che un minuto mettiamola così agen è stata una trovata come per tanti token per raccogliere consenso nel servizio cioè è stata la promessa dell'airdrop principalmente adesso è un po un caso d'uso che si sta trovando perché comunque andava dato e quindi non deve essere dampato perché sennò un problema a dire il vero bastava solamente ether per mettere in sicurezza il servizio agen funzionerà un po allo stesso modo invece mettere in staking solo ether metti in staking in staking agen e agen ti darà uno slashing o comunque ti premerà se il servizio funziona bene su dati oggettivi al di là di tutto quello che adesso ci stanno ricuciando intorno principalmente si sta trovando un caso d'uso per un token che è servito principalmente a coinvolgere persone in fase di pre airdrop diciamoci la verità ok abbiamo un po smascherato l'elefante nella stanza però è interessante questo questo aspetto qui ecco già siamo arrivati ai nostri 18 minuti quindi concludiamo un pochino con con questo aspetto io mi chiedo l'ultima domanda proprio velocissima però nel momento in cui andiamo a mettere in staking i nostri token agen piuttosto che gli eth cioè qual è allora il senso del restaking non c'è il restaking va a utilizzare questo layer di sicurezza di key room mentre perché è il più diciamo è quello più distribuito quello che è conclamato e consolidato nel tempo in che modo poi si va ad aggiungere questo ulteriore strato di staking di del token agen ma in realtà toglie un pochino di peso da quello che è lo strato di base come dicevo prima perché non è più dipendente da sistemi terzi come ad esempio che può essere un nodo personale oppure un sistema tipo quello di lido quindi da una parte toglie rischi a altri ecosistemi legandosi solo all'ecosistema principale dall'altro però non ha la validità no e non ha la diciamo solidità di quello che è un asset finanziario come ether quindi pro e contro in realtà la differenza di come viene utilizzato l'ecosistema non è poi molta premesso che io non ho approfondito più di tanto poi come eigen vuole essere inserito in questa nuova fase perché a me interessa molto di come si sviluppano gli avs cioè i servizi e come gli operatori li integrano e come si può sviluppare da quel punto di vista tutta la parte di incentivo economico per me bastava come ho detto anche semplicemente su ether e eigen è un'aggiunta e come farlo nel momento in cui si è ricevuto eigen beh a quel punto si può utilizzare anche quello verrà utilizzato per servizi non prettamente on chain perché forse è questa la grande differenza ether verrà utilizzato prevalentemente per convalida slashing di cose on chain legate a fattori on chain tutto quello che avviene sulla blockchain mentre invece eigen è un po più legato a dei criteri più off chain quindi magari legati a dei servizi che possono essere giudicati ma non da smart contract più da osservatori esterni che in modo oggettivo possono dire guarda questo servizio ha sbagliato va slasciato e quindi gli togliamo eigen ok quindi è un po questa la grande differenza però dobbiamo entrare un po più nel dettaglio con così poco tempo è difficilissimo spero sia apprezzata la sintesi assolutamente credo che questo serve anche per stimolare un po di curiosità che è l'asset ricordiamolo più importante in assoluto è quello che ha portato te in questo mondo e che spero porterà tanti ad approfondire dopo questa nostra ghecchierata tiziano io ti ringrazio è sempre un piacere averti con noi magari facciamo una bella puntata poi del crypto pub appena partirà la prossima stagione insieme proprio su questo argomento così vediamo un pochino anche che sviluppi ci sono stati dai va bene il piacere grazie mille e alla prossima ciao tiziano a tutti ciao 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 ciao